Mercoledì notte, l'unico, l'originale, All Star, con Sal Fabio Perosi A seguire l'ospite di questa notte, Francesco Cristano, live! Il momento che stavamo tutti aspettando per questi dieci anni, All Star, offre un artista internazionale Un grande applauso per un live, tutto da ascoltare, facciamoci sentire per salutare lui, Francesco Tristano, live! Grazie a tutti! Buonasera! Buonasera a piacere suonare qui al Naomi stasera, ho appena mangiato una pizza ottima, se non ci è andato molto bene, ormai stiamo aspettando un po' di getti, poi mi suonano, grazie mille! Saluto a Naomi stasera, i cuore!